Questo 2020 è stato un anno molto difficile, è un anno che ha sconvolto la nostra vita. Le nostre vite sono cambiate per motivi di carattere sanitario, dal punto di vista economico, le nostre abitudini quotidiane sono state stravolte. La serata dell'ultimo dell'anno di solito era dedicata a festeggiare, dedicata a cene che si protraevano fino a oltre a mezzanotte e quest'anno invece dobbiamo fare qualcosa di più parco, di più sobrio. Siamo obbligati, per le emergenze che tutti noi conosciamo, a serate più tranquille in famiglia. Bene, questo non deve però farci dimenticare il futuro che arriverà e che tutti noi speriamo sarà più sereno. Auguro a tutti i miei amici di Facebook, a tutti i miei parenti, a tutti i miei amici, a tutti, di passare una piacevole serata e di non perdere la speranza per il futuro, che sarà senz'altro il migliore del 2020. Buon anno a tutti.